Ci siamo, gli ordini dello starter, tutto pronto? Finalmente, partiti! Dall'interno prova grande 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 insieme a Sagless, la grigia, quest'ultima allora che prova a rilevare al comando la leader, fa partenza anche Monello all'esterno, si ritrae invece grande 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 così come Optical, questi sono i primi a contatto, c'è anche Martina Mattina. Poi Magnasco, ancora Roser Flash, in coda sono gli altri, Gravity Breaker insieme ad Alta Floresta, a Isabel Flower e a Like Never insieme a Martín Sereno. Questo è lo schieramento completo con Sagless che prova ad andare su Martín Sereno che è sfilato al comando all'interno e allora era Martín Sereno, quello all'interno in giubba rossa, di fuori c'è Sagless, poi a contatto ci sono grande 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 insieme a Monello, prova a risadire anche Magnasco insieme ad Optical. Con Sagless insieme a Martín Sereno all'esterno c'è Monello, poi ancora grande grande grande, prova a intervenire anche Martina Mattina insieme ad Optical. Ma sono indietro con Sagless e Martín Sereno insieme a Monello, poi ancora grande 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 che su passale però fatica un pochettino, rimontato anche da Martina Mattina a Sagless che prova a portarsi in vantaggio nei confronti di Monello. Poi Martina Mattina che va un po' da tutte le parti, prova a intervenire anche grande 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 all'esterno per l'interno, c'è anche Gravity Breaker insieme ad Optical, molti con chance a 200 dal palo, all'interno sbuca Gravity Breaker, Gravity Breaker l'Outsider che è in vantaggio su Monello e Optical e Sagless vicini. Gravity Breaker, Gravity Breaker a 100 contro 1 quasi, 93-79. Poi c'è una foto a tre tra Monello, Sagless e Optical che sbuca all'interno, quest'ultima che ha trovato qualche intralcio sul tracciato, finisce all'interno Vincenzo Barchetta, probabilmente solo quarta.